Solime è un'azienda della provincia di Reggio Emilia che produce prodotti erboristici naturali. Un po' di numeri? È nata nel 1975, ogni giorno lavora circa 300 vegetali, ha oltre 40 dipendenti, 10 centri erboristici in tutta Italia e dal 2012 è online con il suo e-commerce. Ma perché Solime ha deciso di automatizzare il suo magazzino con Modula? Noi abbiamo circa 350 prodotti a catalogo, alcuni prodotti grandi, alcuni prodotti piccoli, alcuni prodotti con confezioni, alcuni prodotti senza confezioni. La problematica è che essendo produttori abbiamo necessità di fare magazzino e quindi noi ci siamo trovati al punto di dover prendere una strada e o cambiare sede o cercare di comprimere lo spazio del semi lavorato. Modula ci ha dato questa possibilità in quanto abbiamo sfruttato soprattutto il centimetro cubo, o il metro cubo, che è difficile a volte pensare perché abbiamo un'azienda comunque abbastanza alta e abbiamo sfruttato proprio l'altezza, più che la profondità e la larghezza. Precedentemente la persona doveva chiaramente trovare il prodotto all'interno del magazzino. Il prodotto era ubicato, però non sempre ubicato nel posto più vicino alla preparazione dell'ordine. Un tempo per riuscire a comporre circa 100 ordini ci si più o meno impiegava 3 giorni, 2 giorni, 2 giorni e mezzo di lavoro. A oggi siamo riusciti ad evadere anche micro ordini, quindi ordini Amazon per esempio, di anche una sola referenza in una giornata lavorativa. E questo è veramente importante perché oggi soprattutto in un mondo che chiede il prodotto entro 24 ore in casa e abbiamo la necessità di prendere il prodotto, imballarlo e spedirlo istantaneamente. Questo tramite modula in due, veramente due click, ho il prodotto disponibile in baia, lo prendo, lo scarico, lo impacchetto e parte. Il modula era diventato il gigante cattivo praticamente perché quando è stato montato lo guardavano e dicevano ma questa macchina come facciamo utilizzarla, ma è complessa, è difficile. E io dicevo ragazzi calmi, si utilizza, ho guardato tutto, ne ho parlato col commercial, non vi preoccupate, è molto semplice. In realtà la cosa più bella è stata che il giorno nel quale è stato acceso il modula ed è stato caricato il modula il lavoro è partito come se niente fosse ed è diventata una macchina di tutti i giorni, utilizzata continuamente, sempre, affidabile perché questo lo devo dire e io credo che sia veramente alla portata di tutti, assolutamente.